Generare idee è una sfida grossissima per i creator, sia per i principianti, che semplicemente non hanno la pratica, ma anche per i creator affermati, i creator esperti, perché devi continuamente trovare nuove idee, non necessariamente colpi di genio, anche solo modi originali di trattare argomenti già trattati, perché devi distinguerti dai tuoi concorrenti, devi dare un motivo agli altri, ai tuoi lettori, ai tuoi spettatori, di seguire te piuttosto che appunto i tuoi concorrenti. Allora, generare queste idee può essere molto dispendioso, devi metterti lì a struggerti prima di creare un contenuto per farti venire il colpo di genio, se fai così rischi di non averla l'idea prima di tutto e di perdere un sacco di tempo. Un metodo molto più sensato è quello di lasciare ribollire queste idee nella tua testa fino a che, bam, spunta qualcosa di originale che hai pronto nel momento in cui devi creare appunto il contenuto. Grazie al Zettelkasten tu puoi annotare tutti i tuoi ragionamenti, i tuoi spunti e far crescere organicamente i tuoi contenuti e nel momento in cui ti metti a creare avere già un embrione pronto, addirittura dei pezzi di testo già pronti. Il Zettelkasten è un metodo così da bibliotecari, quasi da universitari, creato per raccogliere informazioni e poi assemblarle in articoli scientifici, ma anche soprattutto usarle come spunto per le tue ricerche. Al giorno d'oggi possiamo adattarlo, possiamo trasformarlo in un sistema che ti permetterà di creare contenuti più originali e anche di farti risparmiare tempo sostanzialmente. Oggi ti farò vedere come creare un sistema in Notion per usare il Zettelkasten, raccogliere le tue note, dare un ordine ai tuoi ragionamenti e poi usarli per creare i contenuti. Più precisamente ti mostrerò il sistema che ha messo in piedi il mio socio Samuele, me l'ha mostrato, me l'ha spiegato, mi ha dato anche un template che potrai scaricare poi con il link in descrizione. Ma prima di partire ti do un po' di teoria, se già conosci la teoria usa l'indice in descrizione per saltare poi alla pratica, è importante darti questa definizione iniziale perché se no non si capisce assolutamente quello che c'è in Notion. Prima di tutto ci sono tre principi, tre, che regolano le note in Notion. Prima di tutto devono essere note connesse tra di loro, la connettività, ovvero quello che ti serve avere è una specie di rete di pensieri che tu salvi dentro il tuo archivio. Il secondo principio è l'atomicità, cioè ogni nota deve rappresentare un singolo concetto, chiaramente poi ci sono un po' dei permessi, delle concessioni che si fanno nel utilizzo personale poi del Zettelkasten. Però è meglio avere concetti separati così un singolo concetto può essere connesso a più note senza doverlo riscrivere in note diverse. E infine il terzo principio è la personalizzazione, quindi le note non sono solamente catture di contenuti che hai trovato da altre parti ma sono ragionamenti, sono pensieri che hai fatto tu. Magari ci può essere una citazione ma poi c'è la tua considerazione su quella citazione. Detti questi tre principi ci sono quattro tipi di nota e questo è fondamentale da registrare perché questi quattro tipi di note determineranno cosa mettiamo dentro Notion. Allora il primo tipo di nota è l'appunto standard, cioè ti viene in mente un pensiero, leggi una cosa interessante, apri una nuova nota, la scrivi dentro il più velocemente possibile per non dimenticarla, punto, lasciata lì. Questa non è una nota finita, è solo l'annotazione veloce di qualcosa che non volevi dimenticare e andrà revisionata diciamo, comunque intanto la salvi. Il secondo tipo di nota è l'indice, l'indice serve a raccogliere le altre note, ma attenzione non è un indice per esempio per argomento, è di solito un problema su cui ragioni, per esempio come scrivere più velocemente e se quello lì è un problema su cui stai ragionando, per esempio una potenziale idea di contenuto, ci metterai dentro a questo indice i link a tutte le note che sono relazionate a quell'argomento. E di solito l'indice emerge, non è una cosa che decidi a priori, cioè continui a avere pensieri, a osservare cose relative ad un determinato argomento, ad un determinato problema e a un certo punto dici, ah aspetta, le raccolgo tutte sotto lo stesso indice. E poi abbiamo le note permanenti, le note permanenti sono gli appunti che sono stati revisionati, ripuliti, ragionati e collegati tra loro, collegati con altre note e a quel punto diventano note permanenti, come un libro che metti nel tuo scaffale, nella tua libreria. E infine il quarto tipo di nota è la nota letteraria, questa è una nota che diventa un po' meno utile al giorno d'oggi perché sostanzialmente sarebbe la cattura di una fonte, per esempio una citazione da un libro con il riferimento alla pagina, eccetera. Aveva molto senso offline nel mondo non digitale, oggi è un po' più in forze, nella community del Zettelkasten qualcuno lo usa, qualcuno no, però per esempio potresti pensare a un utilizzo in questo modo, trovi un articolo interessante, prendi le citazioni importanti, o anche solo una citazione così separi, rendi più atomiche le note, metti quella citazione dentro la nota letteraria e poi quella citazione può essere collegata, può essere appunto citata da altre note permanenti all'interno del tuo sistema Zettelkasten. Quindi il tuo Zettelkasten funziona così, quando ti viene un'idea, quando trovi qualcosa interessante, crei una nota temporanea, un appunto sostanzialmente, poi una volta alla settimana, una volta al mese, non più di rado di così, riguardi i tuoi appunti, li sistemi, li riordini, ci aggiungi i tuoi pensieri, li colleghi ad altre note che avevi inserito a suo tempo, eventualmente li aggiungi in un indice e a quel punto diventano note permanenti, punto. È un lavoro, ma questo lavoro di ragionamento ti permette di elaborare queste idee nella tua testa e di ottenere appunto questi contenuti che sono già pronti prima di essere scritti, perché tu stai solo ragionando sulle idee, poi un giorno decidi, ok, ci scrivo sopra un articolo e ti trovi già tutto un sistema di idee pronto, e ti permette anche di elaborare il tuo sistema personale che gli altri non hanno perché non è loro sostanzialmente. Ora, finalmente andiamo in Notion. Allora, andiamo a vedere direttamente l'esempio che mi ha dato Samuele, che vedi, si è qui fotografato, sorridente. Questo è il risultato finale, poi lo ricostruiamo qui in questo video. Allora, c'è una tabella, un database, Notion funziona come i database, anzi guarda, togliamo la sidebar così ci concentriamo meglio, in cui trovi tutte le note e vedi che ogni nota ha quattro proprietà, che sono le quattro colonne del database, chiaramente la prima è il nome. Poi c'è il tipo di nota, che può essere indice permanente o letteraria, e come vedi manca il tipo di nota appunto. Samuele ha deciso di fare così, che sostanzialmente gli appunti sono tutte le note senza il tipo di nota. E dopo ti farò vedere perché gli serve questa scelta. Poi c'è un autore e vedi che l'autore può essere Samuele stesso, quando chiaramente la nota è un pensiero che ha avuto lui, ma poi in altri casi l'autore è, per esempio, l'autore di un libro, o l'autore di un articolo, o l'autore di un tweet, potrebbe essere l'autore di un video YouTube, vedi, o l'autore di un post su Instagram. E lui decide di usare gli autori e il tipo di proprietà è un multiselect, perché eventualmente la nota potrebbe avere più autori, effettivamente non è stupido. Multiselect vuol dire che dentro la proprietà puoi inserire, vedi, uno o più autori. Quindi se io creo, per esempio, una nuova nota, e gli posso aggiungere uno, due, tre, quattro. Ed eventualmente posso aggiungere il mio autore successivo. Mettiamo Alberto Gabasvidani. Ecco, eventualmente posso aggiungere l'autore. E quindi quando creo la nota scelgo l'autore. E poi la fonte, questa è una nota di tipo testo, quindi la fonte devo semplicemente copiarla e incollarla. Chiaramente è il tipo testo, perché potrebbe essere un libro, potrebbe essere un sito, e quindi ci serve l'URL, e chissà, magari potrebbe essere sia un libro cartaceo che un ebook, quindi insomma, devi lasciare libertà, e quindi usi il testo. La nota invece, il tipo di nota invece, è una proprietà select, non multiselect, perché può essere di un solo tipo. Ok, questa è la tabella generale, che raccoglie tutte le note e ha un'utilità relativa. Devi comunque averla. Io di solito, se non uso proprio la singola, la tabella con tutto quanto dentro, la piazzo a destra, così è l'ultima cosa che vedo. Invece è interessante avere gli appunti veloci, come prima view. Allora, Notion ti permette di creare diverse view, di visualizzare le, di creare le diverse view, di visualizzare in modi diversi lo stesso database, e quindi questa, a punti veloci, è una view che semplicemente è un'altra tabella che filtra, vedi, le note, in maniera da visualizzare solamente le note in cui il tipo di nota è vuoto. Quindi tu crei una nota, non ci scrivi nessuno stato e butti giù le informazioni velocemente, quella è una nota. Appunto, e chiaramente non dovendo mettere lo stato sei più veloce a salvarla. Poi se vado ad aprire la nota vedi che queste note sono semplicemente delle liste di qualcosa che lui ha trovato e si è scritto velocemente. Questa qui forse andrebbe già messa tra quelle permanenti perché ha già un po' di elaborazione. Vedi dei link? E questo era un tipo di nota, l'appunto veloce. Poi ti dicevo, il secondo tipo di nota sono gli indici. Quindi qui abbiamo un'altra view che filtra e mostra ovviamente il tipo di nota indice. Molto semplice. Come si inseriscono i link ad altre pagine all'interno di una pagina in Notion? Ci sono diversi modi. Puoi semplicemente avere le pagine aperte vicino e fare un copia e incolla del copy link e poi piazzarlo qua. Però non ha senso. Per farle comparire così con il loro titoletto e la freccina come le vedi in questo indice tu inserisci due volte la parentesi quadra sinistra e lui ti apre un menu di ricerca delle pagine in cui vedi l'opzione è link to page e quindi tu scrivi is there vedi vado a rilincare, a rifare quello che ha fatto Samuele e vedi che se clicco qua potevo usare anche la tastiera eventualmente lo rifaccio is there senza toccare il mouse mi spingo giù vedi con le frecce e poi premo invio. Questo se vuoi è anche un modo per creare una pagina nuova ma a te non interessa in questo caso questo è il modo più veloce per linkare una pagina e così hai l'indice delle pagine perché Samuele ha aggiunto questo simbolino qua? perché se lo vuole cercare usando la ricerca di Notion chiaramente potrebbe scrivere indexes ma se inserisce il simbolo lo trova molto più velocemente ora questo simbolo può essere difficile da aggiungere potresti usare il punto la virgola l'asterisco attenzione a non usare gli elementi che sono scorciatori da tastiera di Notion questo è l'indice degli indici poi apriamo invece un indice normale e open così e vedi che questo indice contiene i link ad altre pagine e quindi ad altre note sostanzialmente che sono note permanenti le vediamo tra un attimo e la parte fondamentale è che il titolo non è content marketing quindi non è che lo usi al posto di quello che sarebbe un tag su Evernote per esempio è un problema quindi tu come creator affronti aiuti la tua audience a risolvere problemi e questi problemi sono sempre nella tua testa puoi scrivere un contenuto più contenuti un corso fornire un servizio una consulenza un coaching su questi contenuti quindi di solito quando leggi quando hai delle conversazioni quando lavori con i clienti eccetera noti delle cose riguardo a questo argomento e man mano che le noti le inserisci dentro il tuo ZL Casten quando revisioni il tuo appunto dici ok questo appunto fa parte di questo grande argomento risponde a questa domanda come posso creare contenuto coinvolgente sì ovviamente questo in inglese perché Samuele tiene le sue note in inglese ma insomma tu vuoi chiaramente tenere un italiano e quando la nota è da inserire in quell'indice di nuovo tu vai a premere a inserire il tuo le tue doppia parentesi quadra e poi inserisci la nota lì dentro man mano che le note finiscono dentro gli indici andiamo ad aprire per esempio questa qui vedi che in alto compare questa cosa che si chiama backlink questa è generata automaticamente da Notion se clicco qui cosa succede mi apre la lista di pagine a cui questa pagina è linkata in questo caso solo l'indice quindi cosa succede torno su questa nota e trovo le 5 S dell'attenzione le leggo qui e dico a cosa è linkata? ah ha un indice quindi l'ho inserita in questo grande argomento qui come posso creare contenuto più attraente più coinvolgente e quindi vado a vedere ah quindi questo argomento è anche si può associare diciamo a questi altri argomenti che sono dentro l'indice ed è questa l'utilità del Zettelkasten aggiungere i link e poi grazie a Notion ci sono i backlink che ti permettono di continuare a esplorare andare avanti e indietro perché talvolta chiaramente anche le note sono collegate tra loro e per parlare di questo andiamo a vedere le note permanenti quando aggiorni un appunto veloce quando lo rendi definitivo passa tra le note permanenti quindi imposti come valore di nota il tipo di nota il valore è permanente appunto e poi finisce in questa view in cui il filtro è una e seleziona solamente appunto le note permanenti apriamo una nota permanente per vedere di cosa si tratta vedi che questa nota non è così un appunto a caso è stata riordinata ci sono dentro dei link e poi è linkata ad un'altra nota questo è il fulcro il fulcro del sistema Zettelkasten i link che metti tra le note crei una rete di note un po' come quello che succede dentro la nostra testa però è intenzionale Samuele usa questo modo qui mette una riga e poi il nome links e poi aggiunge appunto all'interno i link che sono link ad altre note che sono manuali e infine abbiamo le note letterarie qui ce n'è solo un esempio appunto Samuele usa molto poco un'idea però può essere avere una citazione eventualmente un pensiero su questa citazione e poi hai eventuali riferimenti perché se la aggiungi in un indice ma altrimenti potresti togliere il pensiero usarla solo come citazione e poi quindi usare sostanzialmente le note di letteratura solamente come citazioni con la loro fonte chiaramente e poi eventualmente le vai a usare linkare all'interno di altre note ok questo è il sistema che trovi tra l'altro scaricabile dal link in descrizione come puoi ricrearlo puoi appunto andarti a scaricare il template ma se vuoi ricrearlo per conto tuo ora che hai visto di cosa si tratta te lo faccio vedere velocemente intanto vai a creare un nuovo database e partiamo con una tabella poi questa tabella sarà appunto un nuovo database non usiamo quelli già esistenti come hai visto nel caso di Samuele c'era una tabella iniziale e la lasciamo qui insomma chiamiamo ztelcast la nostra pagina così vedi ce l'abbiamo qui riconoscibile nel menu a sinistra e abbiamo bisogno di altre proprietà non quelle che sono inserite qui allora name siccome facciamo questo video in italiano lo chiamiamo nome tag è il multiselect quindi teniamo il multiselect e lo chiamiamo autori oppure con più precisione ancora chiamiamo autore i poi andiamo ad aggiungere anche il tipo di nota che è un tipo select come ti dicevo e quindi tipo lui l'ha chiamato nota io lo chiamo tipo e qui dentro per aggiungere i valori ci conviene forse andare qui vedi properties e tipo add an option e quindi qui c'è la nota permanente poi c'è l'indice e poi c'è la nota letteraria eccola qui e infine c'era anche la fonte che è una nota di testo semplicemente allora il tipo lo spostiamo a sinistra e poi insomma fonte e autore puoi lasciarli così come sono queste sono le proprietà di ogni singola nota e questa è la nostra tabella generale poi vogliamo la visualizzazione con gli appunti eccola qui quindi ho creato ho cliccato sul più ho messo il nome qui lasciamola comunque una tabella nel caso degli appunti vogliamo inserire un filtro quindi mettiamo filtro e il tipo di nota non è nessuno di questi ma lo scegliamo qui vedi is empty ok quindi qua dentro ci andranno le note che non hanno il tipo poi abbiamo le note permanenti invece allora inseriamo il nome permanenti e qui di nuovo filtro tipo is permanente poi abbiamo gli indici vedi ho cambiato un po' l'ordine di quello che ti ho fatto vedere prima ma è esattamente la stessa cosa e qui ormai hai capito il trucco filtro tipo indice infine abbiamo la nota letteraria don filtro tipo letteraria ok poi se vuoi così per praticità i valori vedi puoi spostarli quindi a seconda di come ti viene più naturale però alla fine cambia poco nell'ordine delle cose quindi abbiamo i nostri filtri vedi che sono tutti salvati chiaramente non abbiamo nessuna nota qui la cosa che farei in più è aggiungere un template per la nota te l'ho fatto vedere già in altri video su Notion poi li trovi nella playlist in descrizione un template ti permette di pre-popolare di riempire di preparare una nota in maniera da ogni volta che crei una nota nuova avere già alcune cose pronte diciamo quindi qui vado a creare new template e cosa mi serve principalmente? mi serve la sezione dei link se voglio separare la sezione dei link come aveva fatto a Samuele ho bisogno di inserire in tutte le note il titolo link allora perché doverlo farlo a mano? io faccio così aggiungo una riga aggiungo anche una riga orizzontale che in Notion si fa mettendo tre volte il trattino e poi scrivo link lo trasformo in grassetto e poi se voglio avere la lista numerata metto 1 punto spazio e così ho già il primo elemento per il link se non voglio la lista numerata basta lasciare così ora questo è già salvato questo è il template delle note già salvato metto questo template come default quindi clicco sui tre puntini set as default e mettiamo per tutte le view quindi io posso cliccare new e inserisco la mia nuova nota lui si prende un attimo adesso è un filo lento ma di solito è molto più veloce scrivo la mia prima nota questo è solo un appunto quindi ci metto dentro il mio testo non ha ancora link né niente ecco nella mia tabella generale c'è solo una nota a questo punto metto la tabella come ti dicevo sulla destra attenzione questa nota è un appunto non è nelle note permanenti ho creato una nota aggiuntiva perché voglio farti vedere il processo di trasformare un appunto in nota permanente e poi linkare tra di loro le note quindi io supponiamo che sono arrivato alla mia revisione settimanale apro la l'appunto è nota 1 lo rivedo aggiungo eventuali considerazioni perché ci ripenso un attimo e poi mi rendo conto che si collega molto bene alla nota 2 quindi a questo punto inserisco la mia doppia parentesi quadra e vedi qua la trovo già velocemente se no scrivendo nota 2 avrei trovato nota 2 a questo punto tra l'altro se io apro la nota 2 c'è un backlink che mi porta esattamente alla nota 1 e a questo punto la nota 1 può essere finita? sì però di solito voglio verificare se voglio inserirla dentro un indice allora cosa succede? vado nella view indici e vedo quali indici ci sono allora ovviamente qui non ce n'è nessuno perché è una demo creo un indice vedi che creandola dentro la view viene automaticamente applicato il tipo giusto a questo punto metto la mia doppia parentesi e scelgo nota 1 e la metto qua dentro attenzione qui notiamo un problemino che c'è la sezione link che negli indici è inutile tra un attimo ti dico come evitarla e quello che mi interessa però è che adesso la nota 1 ha il backlink all'indice e vado a inserirla tra le note permanenti quindi ho inserito la nota ho linkato la nota alla nota 2 l'ho inserita nell'indice e ora è una nota permanente e poi sarà il caso di rivedere la nota 2 eccetera questo è il funzionamento per le note letterarie c'è poco da aggiungere le crei e se vuoi le linki come hai appena visto se vuoi proprio per completezza per bellezza massima togliere il link qui sotto devi usare un template diverso per le note nella sezione indici quindi qui vedi che io ho trasformato il mio unico template in default per tutte le visualizzazioni e l'hai visto prima quando ho scelto e ho confermato allora se io clicco su set as default di nuovo gli dico che questo è per tutte le view o solo per la view che sto usando adesso io invece voglio il contrario voglio che questo sia che per questa sezione ci sia un indice un template diverso quindi vado a creare new template e mettiamo indice e semplicemente mi dirà che il template è vuoto a questo punto clicco qui set as default e lo metto come default per gli indici quindi quando creo new nella view indici mi compare semplicemente una cosa chiamata indice punto a questo punto ti ricordi che avevamo usato un simbolo speciale per gli indici quindi io posso modificare questo indice e dire che tutti gli indici hanno cominciano con l'asterisco e poi c'è uno spazio così quando creo un indice vedi c'è un asterisco e poi metto indice 2 per esempio ti conviene perché creerai più indici nel tuo uso di di notion e così ti risparmi di doverti ricordare ogni volta di inserire il nuovo simbolo poi se vuoi fare l'indice dell'indice vabbè è una nota singola quindi il simbolo te lo inventi tu e lo aggiungi a mano ecco come ti ho detto troverai la il template scaricabile di questa di questo tutorial in descrizione quindi vai a vedere vai a cliccare quel link è totalmente gratuito se hai delle domande o anche so che ci sono molte opinioni diverse su zlcast quindi eventualmente se hai dei suggerimenti su come aggiungere su come personalizzare modificare questa zlcast lascia tutto nei commenti poi se questo video ti è piaciuto clicca mi piace che è la cosa migliore che puoi fare se hai altre domande in generale su Notion mettene nei commenti perché ci stiamo un po' concentrando su questo argomento è un argomento utilissimo a parte in generale ma per i content creator freelancer imprenditori ti permette di risparmiare un sacco di tempo di organizzare meglio i tuoi pensieri eccetera quindi lascia le tue idee qui nei commenti e ci sentiamo al prossimo tutorial grazie mille ciao